Nelle prossime puntate di Cherry Season Seima e Demre si abbracciano. Che cosa ha in mente la perfida rossa scopriamolo insieme. Mete si reca da Seima per restituirgli l'anello e presentarsi ai suoi genitori. Qui però il ragazzo ha un'accesa discussione con il padre di Seima e quindi decide di andare via. La rossa segue il suo fidanzato il quale la invita a trasferirsi da lui. Burku e Bulent, sorella e padre di Mete, non la accolgono nel migliore dei modi. Mete nel frattempo scopre che la sua fidanzata non ha solo avuto Rizza come amante ma diverse altre persone. L'architetto così si sente presa in giro e decide di troncare con Seima la quale disperata cercherà di rientrare a casa ma il padre la rifiuterà. A questo punto Seima si fa ospitare da Oiku la quale farà di tutto per riportare la pace tra i due fidanzatini ma senza successo. Seima quindi accuserà uno dei suoi ex, Korai, di essere stato il responsabile di tutti i suoi insuccessi con gli uomini. La discussione tra Seima e Korai si accende al punto che i due giungono quasi alle mani. Emre che si trova nei paraggi vede la scena e separa in tempo i due. Il tassista così consola Seima abbracciandola e mentre lo fa giunge Burku che guarda la scena inorridita. Burku interpreterà male questo gesto? Restate con noi per scoprire le prossime anticipazioni della soppopera Cherry Season.